buongiorno risolviamo scomponiamo il seguente polinomio 4x alla seconda meno 28 x più 48 per prima cosa notiamo che il 48 è divisore comune di 4 28 e 48 quindi possiamo raccogliere il 4 quindi 4 che moltiplica 4x alla seconda diviso 4 è uguale a x alla seconda meno 28 diviso 4 è uguale a 7 7x più 48 diviso 4 è uguale a 12 a questo punto riscriviamo il 4 e scomponiamo il termine il polinomio entro parentesi x alla seconda meno 7x più 12 ora notiamo che è un questo è un trinomio speciale o trinomio notevole e dobbiamo per l'appunto trovare due valori che moltiplicati diano 12 e sommati diano 7 questi due valori sono meno 4 e meno 3 quindi abbiamo x meno 4 che moltiplica x meno 3 infatti meno 4 per meno 3 è uguale a più 12 meno 4 meno 3 è uguale a meno 7 bene per il momento è tutto arrivederci al prossimo video